Maffiosi! 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 Quanto cazzo in bastanti c'è lavoro! Quanto cazzo in gente che roba tutti i pedi? Maffiosi! 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 Ma questo è un lavoro! Nessuno di quelli che abbiamo visto ancora! Ben donna tra su tutto quanto! Che cazzo vanno a fare tutti? Non andiamo a porta non facciamo più! Non andate veramente la di qua! Ma guarda! Ma io capo, Giuseppe! I mamma non stocca! Ma si, da questa manca i mamma le fanno spesso! Con mo la nera! La carrena ha fatto un po' e non lo faccio l'uomo! Ma guarda! Andiamo a porcelanare! E se qualsiasi è andata perché ti abbiamo chiamato! Com'è? Sì, abbiamo letto che partecipiamo a qualsiasi bonus e ci diamo risposta! Se no non li chiamate! Se no non è! Ma siamo sbannati! Ma siamo sbannati da casa! 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 Oh! Aspettate... Bambù! Aspettiamo! Bambù! Parlo anche di tucati Ma naturalmente? Vi deve andare con la calma! Aspettate! Non partecipiamo a nessun incontro se non sappiamo gli impegni che hanno assunto quando partono. E non ci siamo voluti. Noi abbiamo fatto fascista, noi abbiamo fatto gente serie. Ti ha messo tutti in grida, però mi pensavo che qualcosa c'era di qui. Rango ti ha detto quando parli non scappare, hai capito? No, io non ho facciato niente. Complimenti voi due, parlate e parlate. E noi stiamo qua. Grazie. 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 Grazie.